A fine maggio un'importante iniziativa coinvolgerà la scuola media di Quero. Certo, ci diamo appuntamento nell'ultima settimana di maggio probabilmente per la presentazione del secondo quaderno sul percorso naturalistico di San Valentino. È un libricino curato dal professor Miuzzi dove i ragazzi hanno scritto i testi e hanno fatto i disegni e che verrà presentato in quella sede a completamento di un lavoro iniziato due anni fa. Pertanto al momento rimane una sorpresa ma vi diamo appuntamento in quella sede per la presentazione del nuovo libro. Questo tipo di iniziative sono anche molto importanti per lo sviluppo dell'amore del territorio da parte dei ragazzi? Direi di sì perché in questo modo oltre a conoscere il territorio lo praticano direttamente e ci lavorano poi anche in classe su quelli che sono gli aspetti che sono andati a cogliere. Quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori, fine maggio la presentazione del libro sul percorso San Valentino curato dalla scuola media, dalla scuola secondaria di primo grado di Quero e anche allo School Festival che si terrà, se non erro, nel secondo weekend di giugno.